Vabbè, per censurare le robe dovreste vittere IG! 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 Uuuuh, mio papero bellissimo Vole spondo, sto cazzo di muro Uuuuh, sopra il 3, sopra il 3 Sì, sto qui di puttana Sì, sto qui di puttana E' solo il 3, sto cazzo di merda E' super altissimo Escono su Oscar Vi avverto che abbiamo preso degli albini Cazzo Eh, vabbè Me ne sono fatti solamente 12 adesso Cazzo Cazzo Ci stanno massacrando Massimo allerta Eccomi Aiutate Ci sono Un po' soccasso, per favore Cazzo Cazzo Unico Abbiamo perso il controllo dell'obiettivo Baker Un po' soccasso Sue Cosa? E' pieno, è pieno AH! Vieni qua, vieni qua! Thank you! Non so dove... 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 Cazzo, ma devo far stai porco odio di kill quel po' non mi era... Ma ora, scusa! Ma... oh, MC che era anche più sdraiato Aspetta, aspetta... No, perché sto rianimando stai copiando? E' già morto? E' lui! Dove sono io? Ahah! E' allora non provo neanche, aspetta che respawni Quello è morto No, un altro sdraiato invece C'è un po' di casino Facciamo un po' di casino Qua sopra c'è gente distesa Tutti! Non so dove... Ah! E' stato una banca, se così! Attenzione! Stiamo perdendo l'obiettivo Bruno! Mamma mia, uff... Oscar si è dato un bel slank, eh? Eh sì! Però mi ha detto che... E' stato troppo veloce E' stato troppo veloce Soldato! Rientra nell'area della malta Sì! 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 Ah! eher male! Dunque... Oppure a wrestlers Wk Dalla grafica... Blike ma però! Sì! Sì! Fajd jk Massimo! teriaا、 Tres! Orунsel ! Ottimo lavoro. Abbiamo preso l'obiettivo Bruno. Non preoccuparti, ti penso io. Non preoccuparti, ti penso io.